Quello che vedete è un meraviglioso esemplare di struzzo, con la targa! Lancia presenta la prima superrottamazione su qualunque veicolo targato. Su tutta la gamma, 2000 euro di incentivo rottamazione e in più con finanziamento e superrottamazione. Nuova Y è tua con 5 porte e clima a 8900 euro oltre oneri finanziari, anche sabato e domenica. In questo spot non è stato maltrattato nessun animale, con la targa! Tranne me!